Oggi è mercoledì 7 aprile, buongiorno, ben ritrovati cari tessi spettatori di FanoTV. Sul canale 17 c'è la rassegna stampa, c'è il commento anzi alla stampa del giorno. Abbiamo selezionato alcune pagine dei quotidiani, il resto del carino Corriere Adriatico e tra poco andremo ad analizzare insieme. Prima come sempre vediamo però il santo, poi il tempo. Il santo di oggi è San Giovanni Battista della Salle, è un santo che ha operato molto in Normandia e in Francia e istituì la congregazione dei fratelli delle scuole cristiane. Il sole è sorto alle 6.40 e tramonterà alle 19.45. Che meraviglia la nostra splendida regione Marche imbiancata ancora dalla neve ai primi di aprile. Abbiamo le cime delle colline tutte innevate, uno spettacolo immenso, bellissimo. Allora speriamo pochi disagi ma credo di sì, comunque fate attenzione. Allora mercoledì avremo secondo trebimeteo.com l'apice del freddo, la neve ancora fino a quote molto basse. Le regioni più coinvolte le vedete in questa cartina dell'Italia, sono le Alpi e la catena Penninica. Ma andando diciamo nelle pagine interne, ecco questa è la nostra regione questa mattina con ancora un po' di neve così anche nel pomeriggio in risalita un po' sulle nostre colline pesaresi. Qualche pioggia sull'ancoretano, per il resto un po' di sole. Sole anche domani, domani giovedì 8, sia al mattino che al pomeriggio che la sera. Adesso invece i giornali. Allora intanto oggi tornano a scuola i ragazzi fino alla terza media, le scuole superiori fino al 50%, insomma sarà un test di prova. I dati non sono confortanti, quelli dei contagi come vedremo tra poco, insomma la situazione è ancora lunga. Colpa questo ovviamente delle varianti che stanno allungando rispetto all'anno scorso molto di più questa pandemia, ma comunque questo è. E quindi il ritorno a scuola degli studenti, la riapertura dei parrucchieri, dei barbieri, si vede. E poi insomma per il resto più o meno la situazione resta quella, anche negli ospedali non si liberano i letti, ancora sono pieni, tutti occupati. Andiamo a vedere il giornale allora, cominciamo dal Calino di Pesero. Vaccini nelle Marche, intanto ecco sì l'altra notizia che arriva domani il generale Figliuolo. Domani sarà a Dancona per fare il punto con la Regione. L'assessore Saltamartini dice poche dosi durante le feste, in realtà non solo poche dosi, pochi vaccini sono stati fatti durante il giorno di Pasqua e durante Pasquetta, ma anche i tamponi, i tamponi erano pochissimi, 600 mi pare appena. Questo è il titolo d'apertura. Però tutte le edizioni del resto del Calino, da Pesero fino a Macerata, puntano come fotonotizia sulla richiesta, la richiesta dei commercianti, del commercio, di non farci più chiudere, di rimanere aperti. Il commercio riparte, ma la preoccupazione resta, molti si chiedono quanto tempo resteremo ancora aperti, cioè già pensano al fatto che potranno richiudere. Invece il titolo è E ora fateci lavorare, ora fateci lavorare. E tra poco vedremo anche tutte le battaglie fatte ieri in giro per l'Italia. Anche pesaresi, infatti, tra i manifestanti di piazza Montecitorio, proteste e tensioni. Questa è un fermo immagine di una diretta di, credo, Rai News 24, dove si può scorgere un volto ormai diventato noto, quello del ristoratore pesarese che da sempre batte, si lotta, paga multe, ha anche sanzioni pesanti per lavorare. Sempre sulla prima pagina del Carlino, dicevo, oggi si torna a scuola, le lezioni in presenza, sui banchi, però il preside Rossini dice, sono preoccupato. Chiuso per Covid, svuotato dai ladri, sparisce la cucina del ristorante al sesto senso di Pesero, e sempre dalla prima, invece, dopo il decreto, i sanitari Novax adesso subiranno delle verifiche da parte dell'Asur, il decreto parla chiaro, insomma, se uno non vuol vaccinarsi, decide e lavora nell'ambiente sanitario, come abbiamo già detto l'altra volta, o deve essere spostato in qualche ufficio amministrativo, quindi non a contatto con i pazienti, oppure, se questo non è possibile, perché nel reparto amministrativo non c'è bisogno di forza lavoro, quella persona, quel Novax, che lavora in ospedale, nelle strutture sanitarie, può essere mandato a casa senza stipendio. VL, ecco le sanzioni, repegia il coach, graziato, il giudice è sportivo, non calca la mano, e dunque, dopo il finale ad alta tensione con Treviso, ha deciso, insomma, di graziarlo. Tornano neve freddo, Urbino e i monti completamente imbiancati. Corriere Adriatico, il Corriere Adriatico, riunione in prefettura, steward per il rientro, più controlli e corse bis dei pullman per evitare gli assembramenti, a Civitanova ha effettuato lo screening per gli studenti, 292 tamponi, soltanto due positivi, ma abbiamo visto che questi, insomma, sono dati che non contano più di tanto. Anche maceratesi tra i manifestanti, tumulti a Roma, fateci riaprire. Allora, partiamo da qui, partiamo da questa pagina, pagina 5 del resto del Carlino. Ora, come vedete, e qui dispiace chiaramente vedere certe scene, soprattutto quando vengono coinvolti le persone, ma a volte, non dico la violenza, perché la violenza non va mai giustificata, anche se a volte si usa e serve anche, ma comunque nessuno si scandalizzi, soprattutto quelli che adesso ci guardano e hanno lo stipendio fisso. Per favore, nessuno di voi si scandalizzi, perché chi ha lo stipendio fisso in questa mattina è bene che, ecco, stia tranquillo, si prenda un buon caffè e lasci perdere. Tutti gli altri, invece, hanno motivo di arrabbiarsi, hanno motivo di criticare, come hanno fatto anche di manifestare chi erano i ristoratori, ieri a Montecitorio, ma non solo a Montecitorio, in giro per l'Italia. Ristoratori, partite IVA che si sono scontrati con la polizia, lo slogan è Io apro, non vogliamo contributi, non vogliamo sostegni, dicono vogliamo soltanto lavorare, fateci alzare le serrande. E così cariche, tensione, nei tafferugli due poliziotti feriti, sette manifestanti fermati, tanta rabbia, poche mascherine, gli incappucciati, ecco l'altra nota dolente, di Casa Pound che soffiano sul fuoco. Siamo esasperati, dice questo signore qua, che vedete con questa maschera, con le corna, che richiama molto il suo collega, tra virgolette, collega americano. Mi sono dovuto vestire da pagliaccio, lui dice, per attivare l'attenzione, spero che ora qualcuno si accorga di noi e ci ascolti. Ha dei precedenti per aggressione, ma ora denuncia di essere finito dagli strozzini per pagare i dipendenti. E sempre dalla cronaca di questa giornata romana, poco più in là, un poliziotto con sola Lorena, una bolognese di 58 anni, che piange in ginocchio, tutti i soldi sono investiti nel bar aperto 15 anni fa, io ci credo ancora. Poi c'è a Milano, Milano gli ambulanti, a Milano gli ambulanti che scendono in piazze infuriati come mai, poi a Caserta invece gli ambulanti sempre paralizzano la 1 tra Villa Literno, Pomigliano e Caserta Sud, poi gestori delle palestre che sono chiusi da tempo immemorabile, imprenditori balneari del settore wedding, quelli dei matrimoni, insomma che sono i settori più colpiti. Intanto a Napoli anche in vetrina contro il lockdown queste mutandine appese. Se vende mutande puoi stare aperto, perché? Con i vestiti prendi il Covid, con le mutande no. In un anno siamo stati chiusi, cinque mesi, adesso non ce la facciamo più. Evidentemente le mutande vanno considerate un genere indispensabile, non lo so, ormai siamo arrivati alla frutta. Marche lo sforzo decisivo, acquaroli, prudenza, l'impennata dei ricoveri, in giunta passa la delibera sull'aggiornamento del protocollo per le cure domiciliari, Saltamartini dice che l'obiettivo è ridurre pressione carico sulle strutture ospedaliere. E siamo arrivati alla frutta anche perché qui non c'è altro che luce in fondo al tunnel, come dice qualcuno ogni tanto, ma ieri i pazienti Covid sono di nuovo risaliti, siamo a 924 e oggi c'è il ritorno a scuola. Capite che con questi numeri insomma si fa poca strada. Domani il commissario, abbiamo detto per il Covid, il generale Figliuolo, sarà nelle Marche per fare il punto della situazione. Da Pesero invece, sul resto del Carlino, a pagina 2, un'intervista al dottor Gabriele Frausini, primario di medicina interna, ora sub-intensiva Covid. L'intervista è la realizzata a Davide Eusebi. Il titolo, zona rossa archiviata ma non nei reparti, ora ricoveriamo anche i familiari insieme. Frausini dice che questa ondata si sta rivelando più lunga e aggressiva colpa delle varianti. Dunque, nonostante la zona rossa archiviata, archiviata per chi sta fuori dall'ospedale, i reparti Covid invece sono ancora pieni. 119 posti occupati su 122 nelle sub-intensive reparti ordinari e 38 posti occupati di rianimazione su 41. Ora, il virus, dice Frausini, non molla. Ieri mattina speravo, tornando al lavoro, di trovare letti liberi, ma erano invece tutti occupati. Questa ondata si sta rivelando più lunga. Il paziente più giovane, gli chiede Davide Eusebi, è stato dimesso un ragazzo di 17 anni che è arrivato con una polmonite bilaterale del 50%. Attualmente abbiamo una ragazza di 29 anni, con un interessamento dei polmoni del 50%, paziente delicata, con necessità di ossigeno e alti flussi, perché la mascherina non bastava. L'età si abbassa di molto dunque, non più solo 60-70 anni, ma anche 30 e 40 anni, e spesso della stessa famiglia. Abbiamo ricoverato padre e figlio, fratello e sorella, marito e moglie. Capite quando vi dicevo che anche a casa bisogna tenere purtroppo la mascherina e stare distanti l'uno dall'altro. Poi qualcuno si scandalizza, manda messaggi, però in realtà, vedete, poi la realtà è questa, si traduce in posti letto familiari. La gente gira, dice, perché così tanti contagi? Gli domanda Davide Eusebi del Carlino. E Frausini risponde, la gente gira, va a spasso. A quello che vedo la zona rossa è stata per ristoranti, estetiste, palestre, scuole, commercianti, per il resto c'è tanta gente in giro ed è quello che chiede il virus per propagarsi. È quello che chiede il virus per propagarsi, ovvero il contatto. Bambini? Sì, ci sono anche bambini purtroppo. Ci sono anche quelli, ma sono trattati in ambiente pediatrico e non da noi. E poi c'è da ricordare, poi vabbè, vi lascio l'intervista perché è una pagina intera, ma anche molto molto interessante, ma c'è un punto, che adesso io ho cancellato, ma avevo evidenziato, un punto dove in sostanza Gabriele Frausini, il primario, dice e parla dell'importanza, questo qua, l'importanza dei monoclonali che fanno veramente, insomma, dei miracoli. Sul fronte vaccini, AstraZeneca, AstraZeneca a pagina 6 oggi del resto del carino nazionale, AstraZeneca è ancora sotto esame. L'ipotesi, nuovi paletti per età e sesso. Allora, è attesa la decisione dell'EMA, l'ente europeo che gestisce, appunto, che sovraintende sui vaccini, potrebbero essere escluse da AstraZeneca le donne che hanno meno di 50 anni. L'orientamento è invece quello di utilizzarlo per gli over 60. Entro oggi, scrive Alessandro Farruggia, entro oggi l'EMA darà il nuovo parere su AstraZeneca e da quanto filtra è quasi sicuro che venga riconosciuto il legame con alcuni rarissimi casi di trombosi cerebrale. In particolare di coaguli nel sangue che interessano la vena cerebrale associata ad un basso numero di piastrine. È da vedere però se EMA, su questo c'è uno scontro tra gli esperti, stabilirà un limite di età, dunque 55 anni, e di genere l'80% degli effetti collaterali è stato registrato infatti nelle donne e quindi al di sotto del quale vietare dunque la somministrazione. Quello che pare molto probabile è che lo suggerisca, lasciando agli Stati la scelta se applicare un principio di precauzione più rigoroso. Quindi poi saranno gli Stati, eventualmente ogni singolo Stato, a decidere poi se aggiungere cose oppure no. Intanto continuano a fioccare le rinunce a questo sfortunato vaccino, sfortunato nel senso che, come abbiamo sempre detto, è nato male e continua peggio, anche se gli ha cambiato nome. Non credo che tutti lo continueranno a chiamare così. Quello non lo voglio, ne voglio un altro. Insomma è stato somministrato appena il 54% delle dosi del siero anglovedese, e il resto insomma a Napoli, per esempio, ecco anche ieri è andata un po' così, come avviene un po' da tutte le parti. Sulle vaccinazioni, sui tamponi, si deve accelerare il pensiero di Filippo Saltamartini, che è assessore regionale della sanità. Nelle Marche arriva il generale Figliuolo. L'assessore è indispettito dallo scarso numero di dosi somministrate durante le feste. Un po' si sono presi la pausa. Ecco, quindi questo per dire, il giorno prima si leggono parole sui giornali come siamo in guerra, siamo, eh, poi a Pasqua siamo tutti a casa sul divano, giustamente poi ognuno deve prendersi anche un po' di riposo, però o siamo in guerra o siamo in vacanza o siamo in riposo. Quindi dobbiamo deciderci un pochettino. Anche di fare meno proclami altisonanti e cercare di stare un po' anche con i piedi per terra. Intanto domani arriva Figliuolo, vediamo insomma che cosa ci dirà. Siamo curiosi di sapere se ci porterà, è venuto solo a fare una visita a parenti, oppure Figliuolo dirà qui bisogna fare in un certo modo, se no non si va da nessuna parte. Vedremo. Intanto Acquaroli, lo ha detto ieri, ha annunciato che ci sarà, c'è sempre quell'ipotesi di mini zone rosse, un po' come è stato fatto con Ancona, un po' come è stato fatto con Macerata, quando la regione era arancione, mentre queste due città, siccome avevano i dati un po' troppo elevati, erano diventate rosse. Quindi l'idea di fare mini zone rosse c'è ancora, insomma, e credo che sia anche giusto. Poi a preoccupare, dice sempre Acquaroli, è soprattutto sempre il fronte sanitario, visto che anche ieri si è registrata una nuova doppietta di segni in crescita, più gente nelle terapie intensive rispetto a lunedì e anche nelle sub intensive, come abbiamo visto. Sul Corriere Adriatico c'è chi fa la riservista, ovvero che si mette in coda e poi spera che avanzi qualche dose. C'è chi lo fa e c'è chi riesce a farsi vaccinare. Quindi al posto di aspettare il suo turno, la convocazione, si mette in coda. Io riservista e vaccinate, eravamo in 18 in fila, sono avanzate dose per tutti, è la storia di una portore canadese che ha ricevuto Pfizer alla baraccola di Ancona. Qui dice, vi chiedo di non rendere nota la mia identità, i riservisti del vaccino ci sono anche nelle Marche, il Corriere ne ha incontrata una. Dopo la polemica nazionale, la polemica nazionale che aveva investito il giornalista del Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, aveva raccontato di aver ricevuto il vaccino ad Arezzo, fuori dalle priorità fissate dal Governo e dal Commissario per l'Emergenza Covid, anche nelle Marche si scopre che quanto si raccontava sotto traccia, ne ha parlato Mastro Vincenzo, esiste davvero. Ce lo racconta questa donna di 53 anni, sposata, due figli, abita nella zona di Porto dei Canati, ha una patologia che deve tenere sotto controllo e che per lunghe settimane l'ha tenuta sulle spine durante la pandemia. Sabato scorso era di ritorno da una visita svolta nel centro del capoluogo quando ha voluto giocare un'oretta della sua vita sulla ruota del vaccino e lei ha detto perché non passare al centro vaccino della baraccola? Hai visto mai che avanzi qualche cosa, qualche dose? E così, e così. Dopo le 19.15 davanti a me c'erano cinque persone, nel giro di poco è stata chiamata e l'hanno vaccinata. E quindi è riuscita. Riservista. Riapriamo le scuole ma sono preoccupato, dice il preside Riccardo Rossini sul Carlino a pagina 7. Rossini è il presidente regionale dell'Associazione dei Presidi. Oggi il ritorno alle elezioni in presenza, al 50% per i superiori, dice non mi sento ottimista lui, insomma. Se lo dice lui, visto che se non ricordo male, in passato invece era stato molto più aperto in tutti i sensi, quindi era più per aprire le scuole. Adesso sono un po' preoccupato. Io ho scelto il metodo delle classi a rotazione tra presenza e distanza. Comunque, oggi nella provincia di Pesurbino tornano in classe quasi 40.000 studenti, tra scuola dell'infanzia, primaria, medie e superiori. Tutti al 100% in presenza, eccetto ovviamente i più grandi, che ripartiranno gradualmente, partendo con un appunto un 50%. Intanto domani tamponi alle prime medie, venerdì e sabato a seconde terze, via allo screening annunciato dal Comune di Pesero, che è stato allargato rispetto alle previsioni iniziali. La prossima settimana tocca alle superiori, ma le date sono ancora da fissare e saranno spalmate. Fa vendita online. Siamo sulla cronaca di Fano. C'è molta cronaca oggi da Fano, quindi vediamola. Allora, fa vendita online, spacciandosi per finanziere. Aveva creato un profilo falso utilizzando il nome e la foto del comandante della tenenza di Fano per costruirsi un'autorevolezza. L'uomo era accusato di sostituzione di persona, ma è stato assolto e vendeva macchine su un sito, che è subito .it. Il fatto è accaduto a febbraio 2018. Sotto, invece, le va addosso in bicicletta, poi però scappa. Ero ferita, ho denunciato il pirata. È stata investita sulla ciclabile Fano-Pesero, quasi all'altezza di Viale Trieste, e a causa della caduta una cinquantenne fanese, già malatta di osteoporosi, ha riportato traumi che i sanitari hanno giudicato guaribili in dieci giorni. Sono stata molto fortunata, racconta Tiziana Petrelli, del resto del Carlino. Poteva andarmi peggio, racconta appunto Martina, ma sono molto delusa e arrabbiata per l'inciviltà di quell'uomo che mi ha lasciato a terra, ferita e sanguinante, scappando in bicicletta come un vigliacco. È successo alle 16.45 di giovedì. Sul Corriere di Fano, sedicenne, fugge da casa a Pasqua, ritrovato sano e salvo dai militari. Carabinieri impegnati nei controlli, rintracciano il ragazzino, controllano 250 persone e fanno 20 multe. L'articolo di Scatasse sul Corriere di Oggi ritrovate anche 20 biciclette rubate e già tutte riconsegnate ai legittimi proprietari. Mentre sui nuovi arredi via Garibaldi, domani partono i lavori. La Brunori, l'assessore, dice l'obiettivo è salvaguardare la vivibilità e potenziare la sicurezza. Ancora dal resto del Carlino, Sufano fugge di casa e ritrovato grazie ad Instagram. Un ragazzo affidato ad una struttura diceva di essere orfano, ma è stato riconosciuto e riconsegnato alla famiglia. Recuperate anche 20 biciclette usate. E poi chiuso un bar a Pergola, lavorava a Pasqua, 20 multe a chi non indossava la mascherina oppure era fuori dal suo comune. La figlia ha un incidente in automobili. Arrivano i genitori e denunciano i vigili, sempre da Fano. Mamma e papà rinviati a giudizio per calunnia. Dicevano di essere stati spintonati dagli agenti. Avevano accusato gli agenti della Polizia Municipale di Fano di averli spintonati oltre che offesi, ma il giudice non li ha creduto e da presunte vittime dunque sono diventati imputati. Calunnia è il reato con cui sono stati rinviati a giudizio. Ieri mattina dal giudice Giacomo Gasparini, una coppia residente a Fano, muratore casalinga di 43-45 anni, originale di Catania e Torre Annunziata. Un fatto che risale al 2018. Dunque, per quanto riguarda invece l'emergenza Covid, il modulo per i tamponi prorogato di un anno, è il modulo, quella casetta tutta dipinta, disegnata, carina, che si trova vicino al Codman di Rosciano. Quindi c'è bisogno di una proroga di un anno e resterà dunque ancora lì. Ed ecco invece come potrebbe, questo è interessante, come potrebbe diventare San Francesco, la chiesa quella che sta di fianco alla comune, la sede del comune in via San Francesco, che non ha il tetto, quella ex chiesa molto bella che viene utilizzata per i matrimoni civili, che non ha il tetto, ma guardate come potrebbe diventare con questa copertura, dopo che l'aveva segnalato insomma come proposta, l'aveva fatta il parlamentare levista a Luca Rodolfo Paolini, e con questa copertura, con questa copertura molto trasparente, bella, quindi insomma, ecco che potrebbe consentire dunque l'utilizzo della chiesa anche in situazioni di pioggia, insomma ecco. Vallefoglia-Urbino, due pagine insieme sul nostro touchscreen con i titoli Vallefoglia sfumature di giallo, ora aprite qui il punto vaccini, positivi in calo a Vallefoglia, solo 142 persone in isolamento, il sindaco Cucchielli dice nessuna palese violazione, ma stiamo attenti. Poi da Urbino, piano triennale delle opere pubbliche, le modifiche arrivano oggi in consiglio, mentre la foto del Montefeltro imbiancato, neve su Raffaello, alberi da frutto assediati però dal freddo. Da Senigalli invece, omicidio del figlio, il padre resta in carcere, lo ha deciso il giudice per Loris Pasquini, alla luce del rischio di inquinamento delle prove e della possibilità di reiterare il reato. Il corpo del giovane resta a disposizione dei medici legali per ulteriori indagini. Sotto invece, raffiche di sanzioni durante le feste, segnalati dai residenti due parti, chiuso un bar dove i carabinieri hanno trovato quattro persone che stavano bevendo. Questa è la cronaca di Senigallia, con la quale chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che oggi pomeriggio, anzi no, questi sono gli appuntamenti, alle 9.10 abbiamo l'udienza di Papa Francesco, come ogni mercoledì, poi alle 16.10 esplorare i confini del Circolo Bianchini. Si parlerà di fake news, interessantissimo, cioè di notizie false, mentre la ginnastica è anticipata alle 15.35 dopo il Rosario Diretta che abbiamo tutti i giorni qui dalla Cappellina alle ore 15. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.